Sat Nam, siamo arrivati al quinto chakra, il chakra della gola, è il centro della parola, della comunicazione consapevole e della verità. Quando ne equilibrio questo chakra possiamo essere timidi, possiamo anche cadere in letargia e può avere problemi in questa zona proprio a livello fisico, degli organi coinvolti, quindi anche tiroide, paratiroide, piuttosto che anche avere paura del dirizio altrui. Quindi è molto importante avere questo chakra in equilibrio per poter esprimerci nel modo corretto, con consapevolezza, quindi senza tarpare le nostre parole, ma allo stesso tempo senza mandare messaggi distorti o fedi degli altri. Per equilibrare questo chakra nel Kundalini Yoga in particolar modo usiamo i mantra. I mantra sono delle vibrazioni sonore che hanno lo scopo di andare oltre la nostra mente, fanno un lavoro molto sottile sulle nostre vibrazioni, sulla nostra mente, sui nostri corpi sottili. Il mantra che utilizzeremo oggi è composto da queste sillabe, Hami Ham, Braham Ham. Noi siamo noi, noi siamo Dio. Va a insegnare la parte divina che è in noi e ci connette all'infinito. Va a lavorare sul punto chakra in particolar modo permettendogli di dire le parole che non abbiamo mai detto o di equilibrarle, trattenerle se ne diciamo troppe. Per quindi vibrare questo mantra che ci porta in connessione con il nostro Sé divino, se possibile ci portiamo seduti in esipose, quindi a gambe incrociate, con la schiena dritta, le spalle rilassate e il mento leggermente retratto. Non siamo non siamo rigidi, non siamo contratti, siamo solo consapevoli della nostra posizione che è dritta, non accasciata, ma possiamo anche vibrare, insomma, passando seduti su una sedia, stanno anche in piedi, in base al contesto in cui ci troviamo. Da questa posizione facciamo prima tre respiri lunghi, lenti e profondi, chiudiamo gli occhi e inspiriamo ed espiriamo sempre dal naso, ripetendo per tre volte un respiro lungo, lento e profondo, quindi rallentiamo il nostro respiro consapevolmente. E quando abbiamo completato queste tre respirazioni e ci siamo un po' connessi con la nostra parte interiore, vibriamo ora insieme questo mantra, Hammi Ham, Bram Ham. Sarà molto più facile, più facile vibrarlo con la musica. Ci portiamo con le mani dell'unica pianura, 12 pollici a contatto, sulle ginocchia. Chiudiamo gli occhi. Sì. 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 Hamidham, Braham 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E inspiro, trattengo, respiro qualche istante e respiro. E apro gli occhi e vi ringrazio.